Ha lanciato tanti slogan, non tagli all'APA per un'APA digitale ma una formazione inclusiva, perché? Io credo che la pubblica amministrazione debba essere rilanciata e credo che una corretta trasformazione digitale possa essere per la pubblica amministrazione una sorta di trappianto di cuore, cioè possa rivitalizzarla. Per farlo però serve innanzitutto personale e quindi negli ultimi anni abbiamo avuto soltanto tagli, 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 invece con questo governo ci sarà per la prima volta il turnover e cioè la possibilità di un ricambio del personale che esce con altro personale e ci sarà quindi un ricambio generazionale, in più sto facendo delle assunzioni straordinarie. È ovvio che non basta assumere, occorre formare, quindi io so perfettamente che la priorità è riuscire a fare in modo che nella pubblica amministrazione ci siano persone in grado di affrontare questa sfida perché è una sfida importantissima che però sta iniziando solo adesso. Oggi si è parlato di 5G. Credo che il 5G possa davvero aiutare la pubblica amministrazione perché crea servizi su misura e siccome la pubblica amministrazione è fatta anche di realtà estremamente eterogenee è ovvio che i servizi su misura possono veramente aiutare la PIA. Le impronte digitali quando partiranno? Dall'anno prossimo? Il sistema dei controlli biometrici delle impronte digitali io credo che nei prossimi mesi saranno in pista.